Ciao ragazzi, eccoci di nuovo sul mio canale, come sempre sono in ItalianGamerSondaCin Oggi vi mostrerò una mod molto figa da mettere su GTA E' quella del modo della polizia In pratica noi diventeremo da ladro a poliziotto Mettendo questa mod, andando in un dipartimento della polizia diventeremo dei poliziotti Ok, basta andare su uno di questi dipartimenti con la scudo e la stella E andare davanti alla porta principale e premere I Dopo fatta la piccola animazione, diciamo video, ci esce questo character selection In pratica io ho l'agenda della polizia, quella italiana Perché l'ho trovata su internet, lascio il link in descrizione Poi ci sono queste qui, gli accessori e il giubbottante proiette della polizia E poi mettiamo select and continue Adesso ci fa scegliere l'auto Io ho messo questa BMW della polizia e la Lamborghini Io sceglierò la Lamborghini e mettiamo select and continue Ed eccoci qua Vediamo spawnare in mezzo la strada già dentro una macchina Possiamo ufficialmente andare in giro e fermare persone random mezzo la strada Oppure accetterei delle chiamate che vengono ricevute dalla radio della nostra auto In questo caso abbiamo una chiamata Noi accettiamo con la lettera Y E qui vicina Premiamo la E per accendere le sirene Io ho le sirene della polizia, una italiana Anche queste le lascerò in descrizione Andiamo subito ad andare a ciuffare questo ladro Dio questa Lamborghini è troppo veloce Vado fuori Ahia l'albero Io sto sopra e lui sta sotto Vabbè C'è andato dall'altra parte Ha capito che sto venendo e quindi ha fatto inversione No no non ti metterò avanti l'autobus di merda Possiamo richiedere un'unità di rinforzo con la lettera B Premiamo invio Anzi due pattuglie Eccole qui Che ci aiutano a fermare il ladro Dovrei restare io se è possibile Eccolo qui Andiamo giù Mettiamo la pistola così Fermo Ok Ho sparato per così Lo possiamo atterrare Ok L'ho il manetto io a posto E vado anche quest'altro di supporto per mettere No se me lo sparo in un'altra volta ti sparo io a te Ok Poi facciamo In pratica Oddio perché si è messo in ginocchio E ti guarda adesso di cazzo Sì 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 Non si alza il minchione Uh un'altra arrestata Un'altra arrestata Bene Oddio fa tutto lui Bellissimo Aspetta C'è un altro tizio qui Aspetta 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 di cazzo Abbiamo visto un arresto Un arresto indiretta Allora Mi sono incerto più nessuno Ti faccio così Ciao L'istinto di ladro ancora non mi è stato tolto E questo era una delle prime diciamo funzionalità di questa mod Adesso vi faccio vedere un'altra modalità Cioè quella che noi andiamo in giro liberamente per la città E se noi vogliamo Possiamo fermare le auto E vedere se sono sospetti oppure no Questa qua La smart non ci sembra regola Quindi in regola Quindi andiamo subito a prendere la smart Andiamo un po' Hello Salutiamo Prima cosa salutare Andiamo I documenti Bishop Bishop Park Maschio 23 04 60 Sembra più giovane Lei Va bene può andare Va bene ragazzi A volte capita che Le macchine che noi fermiamo Sono sospette Quindi noi bisogna Ci tocca andare in macchina E inseguirle Credo che questo mod vi sia piaciuto Vi invito a lasciare un bel po' di like Se volete anche un tutorial Per come installare queste mod Vi ricordo di iscrivervi al mio canale E i dettagli che mi sono da 5 è tutto Ciao a tutti